Giornata di screening anti-covid a Torre del Greco. Sabato 19 dicembre, al parcheggio Palatucci nei pressi del complesso La Salle, c'è stata la somministrazione gratuita di tamponi antigenici. Un'importante iniziativa portata avanti dall'amministrazione comunale insieme ai medici della cooperativa Medicop Veseo. La manifestazione si è svolta in massima sicurezza. Divisi per fasce d'orario i cittadini ben distanziati, si sono a turno recati presso il track per l'effettuazione dei tamponi prenotati esclusivamente dai rispettivi medici di famiglia. Alle nostre telecamere il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palumba, e il dottor Vincenzo Schiavo. Sono iniziative che vedono la collaborazione dei medici, dell'amministrazione comunale e questo è importantissimo perché da forza, affinché praticamente è la dimostrazione che la città è presente e diamo tutto quello che praticamente può servire ai nostri cittadini. Sono stati anche acquistati i saturimetri che sono fondamentali. Daremo alle famiglie che in questo momento sono ancora a casa per quanto riguarda il Covid, li daremo ai medici di base, alle RSA, perché i saturimetri è ossigeno, l'ossigeno è vita. Siamo riusciti a mettere su una organizzazione abbastanza importante e performante per poter ottemperare ai compiti della medicina generale per quanto riguarda l'effettuazione di tamponi rapidi ai nostri concittadini. L'iniziativa prevede che questi tamponi vengono prenotati presso il proprio medico curante, quindi nei propri studi, e i pazienti ricevono, dopo essere stati prenotati, di un SMS che dà l'appuntamento loro con il luogo e l'ora dove seguire i tamponi. Questo ci permetterà di tracciare questi pazienti, magari di riconoscerli precocemente se sono positivi e cominciare a trattarli ancora di più precocemente. Tutto questo è stato fatto con la collaborazione della Medicop Vesevo, che è una cooperativa di medici dell'ASL Napoli 3 Sud, di cui io sono il vicepresidente, il presidente del dottor Paolo Delicuro. La cittadinanza è molto ordinata, i cittadini si stanno comportando in maniera molto civile e devo dire che è un'occasione che secondo me dobbiamo di nuovo mettere a disposizione dei nostri concittadini.